Le migliori domande che mi fate normalmente Zerga perchè non pull in live? Zerga, Zerga, è più forte il tower, è più forte di, Luke! Usavamo un al volo veloce, The Catcher R5 o Lightning R1? Aiuto! Le migliori domande che mi fate normalmente parte 2 Zerga, Zerga, perchè non usi Chyld che è solo livello Zenki? Ehi Zerga, come hai fatto ad avere tutti quegli artefatti? Come mai non usi le Condensed? Le migliori domande che mi fate su Genshin? Parte 3 Zerga, Zerga, quando escono le randi Utao, Ganyu, Zongli, Chyld, Albedo? Zerga, quando esce la Bill di Toma? Zerga, senti Deathmatch o Blacksword? Le frasi che mi fanno più inca... Quando streamo Genshinberg Zerga, non si pronuncia Iula, si pronuncia Eula Oh Zerga, cioè lo sai che la mia Utao vestita come la tua Fa due milioni di danni, non capisco perchè la tua non faccia quei danni Ehm, guarda, non lo so, ma con contro cosa? Eh, contro l'Iricul con tutto il cibo, con Benet e la Burstimona Grazie al... Ti volevo far notare che non hai inserito l'arma superpadellosa del Supergioio 85 Vendibile soltanto su Telenord alle 2 del mattino e che io possiedo Cazzo scusa Zerga, allora Yomiglia è forte in team? Guarda, dipende, ci sono un po' di fattori da valutare Che armi hai, cosa non fare, comandare, bla 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 Ah vabbè, dato non ce l'ho Grazie a tutti